Ciao, incontro sulla poesia Lassiolo di Giovanni Pascoli. Ti ho voluto mettere subito l'immagine di questo carino, alla fine uccellino, rapace, notturno, una specie di gufetto, che appunto, ti dico subito che mi dà molta simpatia a questa immagine, anche se è un rapace, per cui è proprio un uccello, diciamo, buono, non è. Però ti ho voluto mettere questa immagine appunto di questo gufetto perché nella poesia a questo gufetto vengono associate delle immagini veramente molto cupe, molto inquietanti sotto alcuni aspetti. Ecco, per cui torno a un discorso importante che abbiamo fatto varie volte con Pascoli, cioè che dietro il dato naturalistico, in questo caso ornitologico, la presenza di un volatile particolare, si nasconde poi tutto un mondo di paure, inquietudini, timori, di cui appunto adesso poi capiremo nel dettaglio. Però, per farti capire che c'è sempre un doppio piano, un'ambivalenza di fondo dietro alla poesia di Pascoli, questa non è una poesia su questo uccellino che vedi, evidentemente. Tre stanze, tre stanze molto semplici, molto semplici che si chiudono tutte con il verso, questa onomatopea fonosimbolica di cui abbiamo parlato varie volte fra le soluzioni formali di Pascoli, che chiude ogni stanza, in rima con il penultimo verso di ogni stanza, e poi vedremo appunto nel dettaglio. Cominciamo subito alla prima stanza, dove era la luna, che il cielo nuotava in un'alba di perla. Ad ergersi, il mandorlo e il melo, parevano a meglio vederla. Venivano soffi di lampi da un nero di nobi laggiù, veniva una voce dei campi, chiù. Allora, questa prima stanza è caratterizzata da appunto un paesaggio naturalistico di notte, ed è il momento appunto in cui si approssima la luna ad avvicinarsi alla sua teofania, alla sua epifania, alla sua manifestazione, che abbiamo visto essere sempre anche in dannunzio in generale nel decadentismo un momento importante, un momento panico, no, di manifestazione della realtà, ancora mi perdonino i professori di filosofia, della realtà numerica. Qua comincio con una domanda appunto sulla natura, sul paesaggio, dove era la luna? Cioè è notte, come mai non c'è la luna? Il cielo nuotava in un'alba di perla, appunto in questo biancore perlaceo appunto, che in qualche modo è il riflesso su alcune strade dell'atmosfera della luna che sta per sorgere. Sto parlando ovviamente di nozioni astronomiche che conosco pochissimo, per cui non ho pretesa di essere esaustivo, né chiaro, né preciso. Ed è ergersi. Ecco, questa è una misura interessante. Perché? Perché cominciamo a vedere verbi importanti. Abbiamo parlato più e più volte in tutto il decadentismo, e ti metto nei link in basso un microosaggio che provai a trovare anche sul nostro libro, che si intitola La vegetazione malata del decadentismo, in cui appunto si parla di questa antropomorfizzazione del vegetale, e anche il processo inverso, la vegetalizzazione dell'umano, che abbiamo visto operativo in tante poesie di D'Annunzio, e che vediamo operativo anche in questa di Pasqua. Il mandorlo e il melo, ancora una parentesi, la precisione botanica di Pasquale si rifà alla sua formazione positivistica, per cui noi non troviamo gli alberi, troviamo il mandorlo e il melo. Ecco, queste due piante che cosa fanno? Si ergono, no? Per meglio vederla. Immagino appunto questo pretendersi della pianta. È evidente che la pianta non si muove, non si muove almeno in questo modo, no? Cresce evidentemente, quindi cresce in altezza, cresce appunto in varie dimensioni, ma non è che si può ergere per vederlo non agli occhi, il mandorlo e il melo. Abbiamo parlato più volte di umanizzazione, antropomorfizzazione del vegetale, che troviamo in molte poesie del decadentismo. Alba di perla. E questa espressione un po' ci ha abituato Pasquale, no? Questa espressione che è alba di perla, che va di pari passo con soffi di lampi, è ancora forse più chiaro con nero di nubi e poi nella stanza successiva nebbia di latte. Perché dico che sono espressioni tipiche? Perché appunto è evidente nel verso 6, nero di nubi, poteva tranquillamente scrivere, venivano soffi di lampi da nubi nere. però quanto è più efficace, no? Dire da un nero di nubi laggiù. Cosa fa? Sostantivizza l'aggettivo e poi ci mettono laggiù un complemento di specificazione dopo. Allora capiamo che questo aggettivo sostantivato, il nero, è molto più inquietante, no? È molto più misterioso, invita molto di più alla lettura connotativa del testo, nero di nubi. E così appunto un'alba di perla, cioè appunto un'alba color di perla, no? Un'alba perlace, un'alba che presenta un biancore molto simile al colore della perla, molto più efficace come espressione. Venivano soffi di lampi, anche in questo caso è una sinestesia a altra figura retorica tradizionale, possiamo dire nel decadentismo, figura principe del decadentismo, proprio perché lega alla luce dei francesi, questo dérèglement dei sensi, lega i vari sensi, in questo caso soffi, evidentemente è un qualcosa di tattile che sentiamo, lampi è un qualcosa di visivo. Da un nero di nubi laggiù, ecco da dove vengono questi lampi, da dove sono questi nubi laggiù? Sta per arrivare a un temporale? Forse sì, non sappiamo. Veniva una voce dai campi. Chiù? E poi ti segnalo in particolare il termine voce. Quindi in questo panorama naturalistico, del tutto normale, non c'è niente di particolarmente straordinario, ma neanche troppo inquietante o cupo. è un nero di nubi, certo, le nubi portano con sé, ovviamente là, un po' di cupizza, legata alla pioggia che sta per arrivare, ma in campagna la pioggia è vita, per esempio. Per cui si aspetta la luna, la luna porta con sé la luce, la luna porta con sé positività, e c'è però una vocina nei campi. Però è interessante il termine che utilizzo, te lo dico perché va messo in relazione la voce di verso 7 con il singulto di verso 15, con il pianto di verso 23. Ed è un climax, ci arriverai, ci arriveremo dopo a vederlo insieme, ma per adesso registriamo una voce, una voce, ed è un termine così abbastanza neutrale. Questo uccellino emette il suo verso e il poeta lo sente, una voce dei campi. Seconda stanza, le stelle lucevano rare tra mezzo la nebbia di latte. Continuano le immagini positive alla fin fine, no? Ci sono le stelle, ci sono appunto degli effetti uditivi, immagini serene, no? Sentivo il culnare del mare, sentivo un frutto dalle fratte, sentivo nel cuore un sussulto come eco di un grido che fu, suonava lontano del singulto. Ecco, possiamo dire, c'è una prima parte in cui prevalgono la serenità, c'è una seconda parte attraverso questi tre versi centrali della stanza che sono ovviamente in anafora, la ripetizione della stessa parola all'inizio del verso, e un climax. Un climax, che poi bisogna dire una, climax, perché significa scala in greco, ed è femminile anche in greco, ma questo qua ci interessa relativamente. Un culare del mare, che ancora rimanda alla culla, altro simbolo, e quindi anch'io ti rimando alla video-lezione sui simboli in pascoli, il culare del mare, che però subito si trasforma in un frutto dalle fratte, ancora una onomatopea fonosimbolica, e ti metto in link ad un approfondimento su questo termine, che troverai in un blog, nel mio blog, in cui appunto ho rimesso un brano molto breve di Barbary Squanotte, che mi sembra che su questo aspetto abbia detto delle parole molto illuminanti. Sentivo un frutto dalle fratte, è una onomatopea, volutamente insistita sulla letterazione sulle lettere FR e FR, ma mi sembra interessante perché rende ancora più chiaro questa indefinitezza, cioè anche noi abbiamo sentito a volte da una siepe muoversi qualche cosa, e un po' ci siamo messi paura perché appunto nelle siepe possono esserci dei topi, degli animali fastidiosi, oppure possono esserci degli uccelli che è meglio non disturbare. Ecco, però c'è un frutto, non c'è un animale. Mi rende un qualcosa di un po' più misterioso, quindi quel cullare del mare che è piacevole diventa un mistero, un qualcosa di indefinito. Al verso 12, nel cuore un sussulto, come eco di un grido che fu. Allora, qua non capiamo. A livello denotativo ci fermiamo perché come si passi dal cullare del mare alla indefinitezza del rumore della siepe e al sussulto nel cuore, questo per noi resta un mistero. Il resto è un mistero se non sappiamo ovviamente tutto quello che c'è nel mondo di Pasqua. Torno a quel grido che fu, il grido del padre, colpito a morte alle spalle da una fucilata, da solo, senza appunto poi ricevere una indicazione di giustizia perché sicari e mandanti sono rimasti anonimi. ecco, questo eco di un grido che fu determina in me, un sussulto, quindi così una paura che aumenta il battito del mio cuore. Quindi perché dico che c'è un climax? Perché passiamo dal cullare del mare, dalla dolcezza della culla alla indefinitezza della siepe, alla paura, del grido del padre che evidentemente non ha sentito, ma che ancora in qualche modo rimbomba nell'orecchio di Pasquale, ormai grande, che ha visto però il padre morto in questo modo. Ed allora è chiaro il qui a verso 15 il termine che viene utilizzato. Suonava lontano un singhulto, il singhulto è un singhiozzo di pianto quando uno ha bisogno di aria mentre sta piangendo cerca di riprendere aria. E da attenzione a quello che era una voce dei campi, quella che era il verso di questo uccellino rapace che vedi vicino al mio colto diventa invece un singhulto di pianto, diventa un richiamo ad un lutto antico ma sempre presente nella memoria del poeta. Capisce allora cosa vuol dire, no? Che il livello denotativo si carica, il verso di un uccellino, si carica invece di significati estremamente molto più forti e profondi. E arriviamo alla terza complessa stanza su tutte le luci dei vette tremava un sospiro di vento. Ancora un'immagine tutto nato non negativa, no? Sono vette rese lucide perché ovviamente illuminate dalla ormai sorta luna, tremava un sospiro di vento. Quindi c'era un venticelo, non era un vento spaventoso. Però questo vento appunto porta con sé un rumore strano. squassavano le cavallette finissimi sistri d'argento, tintigna invisibili porte che forse non saprono più e c'era quel pianto di morte. Chi ho? Allora qui, a livello denotativo, noi veramente gettiamo la spugna. A livello letterale non si capisce nulla. Le cavallette, le cavallette forse abbiamo viste, forse non abbiamo viste, le associamo comunque a uno dei grandi flagelli biblici, no? Che troviamo nell'Antico Testamento, per cui Dio manda le cavallette e tutto quello che c'è in quella regione viene divorato, distrutto. Cosa fanno queste cavallette? Squassano, ed è evidente che è ancora una volta una antropomorfizzazione, questa volta non del vegetale ma dell'animale, squassavano, cioè come se prendessero in mano e agitassero fortissimamente dei finissimi sistri d'argento. Nella parola sistri dobbiamo andarla a cercare sul vocabolario. Che cosa sono i sistri? I sistri sono questi strumenti musicali, qui è una ricostruzione, che venivano utilizzati nell'Antico Egitto legati al culto di Iside e Osiride. In particolare, appunto, essendo questo un culto misterico che metteva, prometteva, in qualche modo, il collegamento con il mondo dei morti, ecco, mette in qualche modo il suono, che è un suono che noi abbiamo anche in altri strumenti musicali del Sud Italia, oltremmeno a questi nella mia memoria, questi strumenti, questi suoni metallici che non sono neanche troppo gradevoli, cioè all'interno di una melodia con altri strumenti, sì, ma da soli non sono gradevoli. E questa sgradevolezza in qualche modo la rende il poeta con l'insistere sulla vocale I che connota l'intero verso 20 e 21. guarda quante I ci sono in queste proprio per richiamare questo suono così metallico e acuto, questi suoni servivano in qualche modo per evocare i morti o per rievocare i fantasmi, cioè nel culto di Iside di cui sappiamo ovviamente poco perché era un culto misterico, quindi un culto destinato a pochi, in qualche modo dovrebbero assicurare il collegamento fra il mondo dei vivi e il mondo dei morti. Allora, le cavallette stanno squassando questi strumenti che emettono questo suono così particolare e sono dei tintini e invisibili porte, cioè come se andassero a bussare alle porte dell'oltre tromba porte che però non si aprono più. È una parentesi con un punto interrogativo e con dei puntini di sospensione che ovviamente è tutto un mistero. Allora, qua appunto le interpretazioni ovviamente si sono susseguite, eccetera, però certamente quello che possiamo dire è che prevalgono in questa terza, ultima stanza dei suoni inquietanti, dei suoni paurosi, degli effetti, delle immagini che sono misteriose più o meno analogicamente collegate fra di loro, più o meno comprensibili. Mi interessa interpretare quella parentesi, cioè questo strumento che serviva per evocare i morti, è utile oggi? Serve a qualcosa oggi? Allora, qua i critici sono fermati. Io ti riporto dapprima la versione, la interpretazione che dà il nostro libro, cioè queste porte invisibili dell'oltre tromba non si aprono più per il poeta. Cioè quella è un'interrogativa retorica che si aspetta una risposta negativa che forse non si aprono più? No, non si aprono più. Il mondo dei morti è per sempre separato ed è per sempre lontano dall'oggi del poeta. Nonostante le cavallette adoperino questi strumenti, nonostante ci siano tentativi di collegarsi col mondo dei morti. Forse è un po' più convincente invece questa alta interpretazione che è sempre di alcuni altri critici, penso di Barberi Squarotti, che interpreta invece questa interrogativa come una vera interrogativa, non retorica, come una risposta sottintesa, ma chi ha detto che un giorno non si potranno riaprire queste porte? Cioè questo rito iniziatico delle cavallette in qualche modo ha un effetto positivo. Forse proprio in virtù di questo suono il poeta si collega al mondo dei morti. Non lo sappiamo, ovviamente il mondo dei morti ha una valenza memoriale certamente, ma anche una valenza molto esistenziale, di presenza vera, forte all'interno del mondo del poeta. Personalmente pretendo un po' più propendo un po' di più per questa seconda interpretazione, perché appunto non è soltanto memoria dei morti, ma è una presenza quasi fisica dei morti nel mondo di Pascoli. Ma penso che una risposta definitiva sulla validità dell'una o dell'altra interpretazione non esista. Lo teniamo così, chiudendo con un riferimento a questo ultimo ultimi due versi 23, 23, 24 e c'era quel pianto di morte e quell'altro climax di cui ti parlavo la voce di verso 7 è diventata un singurto a verso 15 per trasformarsi infine in un pianto di morte. E allora capisci da solo che questo verso ripetuto di questo povero uccellino notturno questo Q si carica di valenze che sono all'inizio neutre che sono inquietanti nella seconda stanza che sono totalmente negative totalmente luttuose nell'ultima il pianto di morte questo Q è un pianto di morte è un pianto di morte anche qua è bello è il pianto del padre che muore è il pianto della moglie e dei figli che vedono il padre morto è il pianto che connota molte delle poesie di Pasquale e che costruiscono certe e costruisce certamente uno degli assi tematici portanti di tutte le raccolte poetiche di questo grande interprete del novecento alla prossima